ciao a tutti mi chiamo geni stock o prezzo sa blocca abbiamo iniziato circa due tre anni fa poi abbiamo avuto un natale molto focoso e abbiamo fatto una bella pubblicità perché i prezzi diciamo come dicono i slogan si bloccano prezzo eccezionale poi con il napoli abbiamo fatto proprio il botto e buongiorno a tutti se sta bloccando prezzo guarda come se blocco prezzo va se sta bloccando mi vede in tanti oggi è sabato rimane c'è solo prezzo si blocca si blocca si blocca i social soprattutto con questo slogan non prezzo si blocca diciamo piace un po' a tutti soprattutto ai bambini soprattutto ai bambini che arrivano e vogliono fare dei video è una cosa meravigliosa per tutti che vanno in più sono la mascherina di osyman proprio alle stelle vabbè i gadget poi la bandiera con il terzo scudetto quella va proprio a ruba quella con maradona che gli dà lo scudetto ai giocatori quella proprio in assoluto è proprio una bomba proprio la scala avanzina penso che oramai è lontana e questi quartieri spagnoli coloratissimi tutti bianco azzurri che ne pensi è una cosa eccezionale una cosa è da sogno è una cosa che fa solo sognare puoi vedere tutte le mie bandiere è una cosa ancora più bella